Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono De Simone Alessandra ed oggi voglio coccolarvi un po'. E quindi torniamo nel magico mondo di Ale, fatto di cose belle, di trucchi, di profumi, di creme, di contornocchi, di maschere per il viso. E oggi voglio presentarvi il mio contornocchi preferito. E come sapete, per chi mi segue da tanto tempo e sa che per tantissimi anni ho lavorato in profumeria, quindi sono un'ex profumiera, quindi me ne intendo. Faccio recensioni soltanto dei prodotti che mi piacciono, perché non amo parlare in modo negativo. E oggi voglio presentarvi questo prodotto qui. Io questo prodotto lo conosco da circa 20 anni. È un prodotto eccezionale. La confezione è questa qui. Ci sono 15 ml di prodotto all'interno. E volevo aggiungere una cosina. Dal momento dell'apertura dura 6 mesi. Perché i prodotti cosmetici, dal momento in cui andiamo proprio a aprirli, hanno una data di scadenza. Vi faccio vedere anche il foglietto illustrativo. Non so se vedete. Così, se volete leggerlo, potete farci una foto e lo leggete quando avete tempo. Volevo leggervi soltanto una cosa. Che aiuta a promuovere il processo di risincronizzazione e la naturale autoripreazione notturna della pelle. Per assicurare che rigeneri il proprio aspetto al momento giusto. Aiuta inoltre a sostenere e favorire il naturale processo di purificazione notturna della pelle. Questo è veramente ottimo. Dopo sole tre settimane vedete i risultati. E fa il contorno occhi morbidissimo, disteso, disteso. Il contorno occhi si mette in questo modo. Allora, apriamo la scatolina. E con questo dito andiamo a prendere un po' di prodotto. E anche dall'altra parte. Ne basta veramente poco. Poi, non facciamo troppa pressione. Perché deve essere una cosa proprio che ci rilassa. E andiamo a picchiettare proprio il contorno occhi. Questo prodotto è adatto per tutte le età. Sia per l'uomo che per la donna. Quindi picchiettiamo, andiamo a simulare la circolazione. E poi andiamo a fare questo movimento. Per un po' di tempo. Ci sentiamo subito meglio. Perché ci siamo regalati questa piccola coccola. Poi, io l'ho acquistato in offerta. Perché amo, come sapete, acquistare le cose in offerta. E addirittura era un cofanetto in offerta. E all'interno, in omaggio, c'era sia il mascara, bellissimo, eccezionale, che praticamente, quando lo andiamo ad applicare, sembra che le sciglia si moltiplicano e si allungano. All'interno ci sono 8 ml. E il costo è all'incirca sui 35 euro. Può variare veramente di pochissimo da profumeria in profumeria. Non fa grumi. Non appesantisce le ciglia. E sempre dal momento dell'apertura dura 6 mesi. Vi faccio vedere il pennellino. Adesso io stamattina l'ho applicato. Quindi, quando noi li andiamo a riapplicare il pomeriggio, poi amo metterne poco. Non è poi tanto facile poi mettere il mascara. Non so se avete mai provato con il cellulare. Comunque il pennellino è veramente, veramente comodo. Anche un buon profumo. Veramente. Poi, all'interno della confezione in omado, è uscito anche il siero. Guarda, fidatevi di me. I sieri delle Steloder, se li acquistate, non vi pentite mai. Costano un pochettino. È vero. Però, chi risparmia spreca. Perché se noi spendiamo un po' di più, però qui siamo un prodotto di cui siamo soddisfatte, non ci importa quando abbiamo speso, ok? Perché a volte spendiamo poco, però non ci piace quel prodotto, non ci piace neanche applicarlo. Io questo prodotto lo amo. È un siero riparatore. Io sinceramente lo metto il giorno e la notte, su viso e collo. Sempre sotto la crema per il viso. Perché, come vi ho detto tante volte, il siero e la crema insieme lavorano in sinergia. Quindi otteniamo più effetti benefici. È adatto a tutte le pelli e lo conosco all'incirca da vent'anni, questo prodotto. Io mi piace tantissimo, perché poi il profumo è buonissimo. Mi piace tantissimo anche applicarlo al collo tantissimo. È proprio fresco fresco ed è infrescante. Anche gli altri sieri di Estée Luder sono altrettanto validi, sono meravigliosi, veramente. Acquistateli tranquillamente senza paura, anche se vedete che il costo è un pochino alto. Quindi la confezione del siero, che ovviamente è il campioncino, quindi questo è una piccola taglia. E però il siero dura di più. Mi avverto che 24 mesi dal giorno dell'apertura. Questo è il mascara, sempre al campioncino. Questa invece è la reale confezione di vendita del contorno occhi. Non so se qualcuno di voi l'ha già provato. Sì, l'ho acquistato e fatemi sapere se vi ho consigliato bene. Un bacio e buona giornata, buone coccole.